Amici dell'hard enduro buongiorno oggi inizia il Red Bull Romaniacs Enduro blogger in bronze class insieme alla mia gopro vi racconterò da dentro sarò i vostri occhi per vivere questa avventura dell'hard enduro rally più duro del mondo inizia il Red Bull Romaniacs 2019 qua c'è un primo casino vediamo un po' tutto bene? ti diverti? No, è terribile, eh? Ok, come è stato questo passo? Un po' di sole ha cambiato tutta l'ultimo Sì? Come questo? Molto di russi? Russi, non c'è nessun ruolo Ma ci siamo piaciuti, eh? Sì, posso vedere il tuo face No, no, no Go, 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 go No, no, no No, no, no Hey, man, what are you doing? Swimming Super, bravo, bravo, bravo Red Bull Romaniacs Sweet 16 Going good Going good? Going very good, yes A lot of slippy grass Slippy Yeah, off campbells, very, very slippy But we stay strong Yeah Yeah No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no See? No 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 Grazie a tutti. Meglio due passi a piedi che una facciata contro l'albero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. You're welcome my friend. Grazie a tutti. Welcome. Thank you. Ciao. Oh yes. How are you? I'm okay. You're okay? Oh yeah. Very good. Nice race today, yeah? Hard. Harder than yesterday. Yeah. Yeah. un colpo di grazia un colpo di grazia